Un grave incidente stradale si è verificato sulla tangenziale di Andria nel pomeriggio di lunedì, poco dopo le ore 18, nei pressi di una stazione di servizio. Una moto che viaggiava in direzione Barletta per cause ancora in fase di accertamento si è scontrata con un'autovettura che viaggiava invece in direzione Corato e che presumibilmente stava imboccando proprio l'entrata della stazione di servizio. Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito l'uomo alla guida del motoveicolo, un 57enne andriese. Sul posto immediato l'intervento di un'equipe sanitaria del 118 di Andria, che ha lavorato a lungo per stabilizzare l'uomo e trasferirlo d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Miccoli di Barletta, dove è al momento ricoverato in gravi condizioni. Sul posto anche gli uomini del nucleo di pronto intervento della polizia locale di Andria, che hanno eseguito i rilievi del sinistro e della polizia di Stato per assistere la viabilità andata naturalmente in tilt, tangenziale chiusa infatti per circa due ore in direzione Corato e parzialmente percorribile in direzione opposta, tangenziale stessa completamente tornata fruibile solo attorno alle ore 20.